Volevo rispondere al di là di queste considerazioni a signor Franco a proposito di una cosa che io ho detto invece nella puntata del 25. Lui dice, ho sentito il suo suggerimento che prima di intraprendere una lite civile per farsi riconoscere una qualche cifra dovuta da un debitore, occorre stare molto attenti. Vi ricordate, ho detto perché? Perché potrebbe essere che alla fine l'entità della cifra recuperata sia inferiore alla cifra dovuta all'avvocato o ha detto esattamente questo. Signor Franco dice, però le chiedo, ma non è vero che quando uno vince la causa il tribunale condanna il debitore a pagare la cifra dovuta più gli interessi ma lo condanna pure a rifondere le spese legali del creditore? Questo in teoria, in pratica al 90 se non 99% dei casi il tribunale, il giudice stabilisce la compensazione delle spese. Cosa vuol dire? Ti do ragione, tu hai ragione, tu hai torto e ognuno però si paga le proprie spese. Questo nella stragrande maggioranza dei casi succede così. Quindi aprire una causa per recuperare 1000-1500 euro, quando l'avvocato ne prenderà 2000, non conviene. Non speriamo che il giudice poi dia da pagare il nostro conto alla controparte, perché di solito, ribadisco, ognuno si paga il proprio avvocato.